Bagno di folla ieri sera ad Alcara a Lifusi, vicoli invasi da turisti e visitatori per la festa popolare più antica d'Italia. Infatti la festa del Muzzuni si celebra da 4.000 anni, così almeno assicurano i ricercatori di etno-antropologia. Il Muzzuni è una festa pagana, un rito propiziatorio alla fertilità della terra, un inno alla natura, all'amore alla giovinezza. All'imbrunire gli angoli più caratteristici del paese vengono preparati per accogliere gli altarini sui quali verrà posto Muzzuni. Attorno ad essi, sulle pareti, sui balconi e sulla strada vengono stese le pizzare, tipici tappeti tessuti con l'antico telaio a pedale utilizzando ritagli di stoffa. Sulle pizzare, disposte intorno ai piedi dell'altarino, vengono poggiati piatti con i steli di grano fatto germogliare al buio, spiche ed umili oggetti del mondo contadino. Terminata questa fase si prepara il Muzzuni. Esso è costruito da una bocca dal colo mozzo rivestito da un fular di seta ed adornato di ori appartenenti alle famiglie del quartiere. Dalla mossa umita della brocca fuoriescono steli di orzo e grano fatti germogliare al buio, lavanda, spieghe di grano già maturato e dei carofani. Si entra così nel vero e proprio clima della festa. Ogni quartiere che ospita il Muzzuni viene animato con musiche e canti popolari. Tanti gli eventi collaterali organizzati dall'amministrazione alcarese in collaborazione con l'ufficio turistico comunale, dalla mostra fotografica allestita al Salone San Giovanni, alle escursioni naturalistiche incontra da Stida, Voliera dei Grifoni, Grotta del Lauro e ancora visite guidate all'interno del centro abitato. Come da tradizione, per chiudere le celebrazioni del Muzzuni, un grosso ceppo dalla forma chiaramente fallica, ricoperto di grano falciato, portato dai contadini durante i preparativi della festa, viene spogliato dalle spieghe di grano offerte alla gente che partecipa al rito. I contadini danno fuoco al legno, cantando, danzando attorno al fuoco fino a tardanotte.